Ciao per le sicurezza. 1, 2, 3, la beffaella. Siete bellissimi, un momento unico. È arrivata finalmente. andate in piazza a darle a tutti i bambini la befana che prima di tutto salva la scopa bellissimo un applauso l'ultimo finalmente ecco la befana come per magia arriva da noi un'ultima nevicata per rendere l'atmosfera veramente stupenda grazie a tutti quelli che sono stati qui con noi stasera grazie ancora alla lista in Italia grazie a tutti